Ciao a tutti e buon pomeriggio, come va? Spero che siate tutti bene, che stiate trascurando un felice weekend, che stiate facendo soprattutto cose che vi piacciono, perché il segreto della felicità è proprio questo, dedicare un po' della nostra giornata a fare cose che davvero ci piacciono. Quindi risagliatevi sempre un pezzo della vostra giornata per fare queste cose, mi raccomando. La ricetta che vi propongo oggi sono in realtà due, sono facilissime, semplicissime e molto gustose. Le ho preparate per il mio compleanno e gli ospiti hanno veramente gradito. Ho preparato soltanto degli antipastini, perché comunque volevo anche rilassarmi proprio nel giorno del mio compleanno, ma non volevo lasciare i miei ospiti senza qualcosa che fosse preparato da me. Quindi ho optato per questi antipasti, proprio semplici semplici. E poi come piatto forte ho ordinato della tavola calda, quindi un mix di arancini, cipolline, cartucciate. Gli ospiti hanno veramente gradito. È stata una bella serata, ci siamo divertiti, ci siamo rilassati, abbiamo mangiato. E soprattutto siamo stati senza pensieri, o forse c'erano, ma insomma, per una sera abbiamo tutti cercato di metterli da parte, cosa che dovremmo fare più spesso. Comunque, ciancio alle bande, bando alle ciance, vi lascio alle ricette. E mi raccomando, se le replicate, fatemi sapere. Ciao! La prima ricetta che vi propongo sono i rotoli farciti. Per farli vi occorreranno, come ingredienti, una confezione di pane per tramezzini, un barattolo di maionese, che comunque non userete tutta, dei salumi e, come attrezzature, un tagliere, un mattarello e un coltello. Mettiamo quindi del pane per tramezzini su un tagliere e lo appiattiamo con un mattarello. Una volta fatto ciò, mettiamo della maionese e ci aiutiamo a spalmarla con un coltello. Spalmiamo quindi la maionese su tutta la fetta e poi mettiamo i salumi. In questo caso, io ho messo il salame. Per farcire la fetta in maniera uniforme, ho deciso di tagliare la fetta di salame a metà, per far combaciare la parte dritta della fetta di salame con la parte dritta della mia fetta di pane. Completiamo la farcitura e poi arrotoliamo il più stretto possibile, non dimenticando di lasciare vuota la parte finale della fetta, altrimenti la farcitura fuori uscirà. Stringete bene il vostro rotolo e mi raccomando, se come anche a me si srotola, avete fatto bene. No, scherzo. Comunque, aiutatevi con la pellicola per stringere il rotolo il più stretto possibile. E una volta completata questa operazione, riponetelo in frigo e fatelo riposare almeno una notte. Fate riposare i rotoli almeno una notte in frigo e poi tagliateli a fette, di circa mezzo centimetro di spessore. La seconda ricetta che vi propongo oggi è a base di pasta sfoglia e formaggio spalmabile alle erbe. Voi però potete utilizzare anche il formaggio che più vi piace, in commercio ce ne sono davvero tanti. Come prima cosa ho iniziato srotolando la pasta sfoglia, proprio per intero. E poi ho iniziato a spalmare il formaggio su una sola metà. E come seconda cosa, ho richiuso la pasta sfoglia su se stessa. Infine ho tagliato a listarelle dello spessore di circa un dito. Ecco, qui ho concluso quindi tutto l'impasto e li ho arrotolati praticamente su se stessi, in modo da formare quindi dei grissini che ho messo poi sulla teglia. Li ho cucinati quindi in forno a 180 gradi, più o meno, per una ventina di minuti. Mi raccomando controllateli, perché la sfoglia si potrebbe dorare all'improvviso e vi ritroverete quindi con dei grissini bruciati. E questo è il risultato di un rotolo di pasta sfoglia. Tanti bei grissini pronti da sgranocchiare. Questi invece sono due dolcetti che mi ha portato mio papà per festeggiare in anticipo. Quello bianco è a base di cassata siciliana, mentre invece quello nero è a base di sette veli. Se vi può interessare, magari potrò fare anche la ricetta di entrambi i dolci. E questa, infine, è la torta del mio compleanno a base di crema bianca. E complimenti al pasticcere! Grazie! 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 Grazie!